Buonasera a tutti, qui è il vostro Iero che vi parla e che vi dà il benvenuto in questo primo di una lunga serie di Let's Play di Shadow Warrior, il remake del titolo originale uscito nel 97, unicamente per sistemi operativi DOS. Comincio subito facendovi vedere le opzioni video del PC, eccoci qua, la mia GPU Nvidia GeForce GTX 780, visto che Taurus l'ha chiamata in ballo nello scorso video, sinceramente mi stupisco anch'io di come possa io possederla ma chiamiamolo miracolo, beh teniamocela va che è meglio, ok facciamo, facciamo normal va? Ecco, piccola pecca del gioco, i caricamenti sono un po' lunghi, quindi ho deciso di saltarli e di saltare le parti che sono inutili per la trama diciamo. Approfittiamo invece di questo video graficamente figo ma inutile per spiegare un po' la trama del gioco, altrimenti uno non ci capisce nulla a prima occhiata. Comunque Shadow Warrior è uno sparatutto in prima persona, che ha come protagonista un ninja chiamato Lo Wang, che è una guardia del corpo che lavora in una grossa compagnia, la Zilla Enterprises. Quando scoprirà che il presidente Master Zilla è deciso a conquistare il Giappone, con l'aiuto di creatura del lato oscuro, si dimetterà. Master Zilla realizza che se Wang non è con lui, Wang è contro di lui, per questo decide di scatenarli contro le forze. Sì, sì, molto figo il video, però saltiamolo che non ce ne frega una mazza. Siamo qui col prologo, che si chiama Mr. Two Million Dollars. Subito. Sì, 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 siamo subito in macchina col protagonista, bello Tamarro, e che somiglia a... non vi dico chi, ma vi ci faccio arrivare piano piano, comunque. In pratica, eh... vuole comprare dal nemico, eh... una spada. In cambio, il nemico vuole la sua Robitsura Cage. E in più... e lui invece vorrebbe offrire solamente 2 milioni di dollari. E non dargli la spada, invece. Per questo, io ne attacco il telefono. Ma io mi chiedo, ma... le buone maniere... esistono ancora? Ok, godetevi la canzoncina, ragazzi. Ok, ragazzi, siamo arrivati. Come si capisce che è una Giacomo Sada. Si capisce subito, proprio. Però... ha una particolarità. Ha una grafica da... bav, proprio. Guardate. I ciliegi. Tutto quanto. Wow. Paccio dei sensi, proprio. Let's see. Briefcase full of cash. Play. Million dollar smile. Ready for school, ma. Saliamo le scalette. Vediamo dove ci portano. Vedo del fumo. Non si fuma. Tu non fumi. Però è una brutta faccia da schiaffi. Tu stai fumando? Sì. Tu stai fumando. Ok. Insegnamento numero uno del gioco. Oh, fumio sei brutto. Grazie, gioco. No, no, no. Non è vero. Anche lui fuma. Guardate. Ritiro tutto quello che ho detto finora. Stanno fumando proprio tutti. Destra, sinistra, 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 destra. Destra. Ok. Shit. I was hoping for more cliched setting. I guess koi pons and cherry blossoms will have to do. Che figata l'acqua. Contatto di schizzi sullo schermo. Oh, che canzoncina figa. Ve la lascio ascoltare in silenzio. Oh, anche qui ci sono le sfere del drago. Sono più entusiasta di un bambino. Guardate, Dragon Ball. Chi sono sti due brutti ceppi? Vabbè, entriamo. Ok. Tab per vedere lo stato della missione. Vediamo un po' che ci dice. Compra la spada da Mr. Mizayaki. Ma ha detto che non te la vuole comprare. Cioè, boh. Vabbè. Insistiamo. Alex Lariete Style. Alex Lariete Style. Attimo di pathos. Che voglio sminchiare, ovviamente. Blah, 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 bla, blah, 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 blah. Non mi farò concentrare. Blah, 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 blah. Is this some kind of joke? Mr. Mizayaki, I presume. Vabbè. Chi è? You can call me two million dollars. Ma inutile! Non te la dà la spada! Cioè, che ci provi a fare? In questo documentario metteremo a paragone le caratteristiche fisiche dei nostri tre personaggi Mickey Mouse Mickey Rourke e Lo Wang Quindi, ricapitolando, abbiamo capito due cose da questa prima parte di gioco Insegnamento numero uno Tutti fumano, sia belli che brutti Basti guardare la faccia da schiaffi E insegnamento numero due Tutti sono uguali, senza distinzione di cartone animato, film o gioco Bella ragazzi, lasciate un mi piace, ci vediamo al prossimo video Ciao! 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 Ciao!